segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te perro su questo ma avevamo intravisto il movimento ovviamente ovviamente l'eccessiva produzione di di nuovi di nuovi reati sì certo dal presupposto che si è indietreggiato troppe volte che ci si è girati troppe volte dall'altra parte che delle norme servissero rispetto a quello che in qualche modo poi diventano i migliori collaboratori di magistrati in gamba come sabella io penso le forze dell'ordine che spesso vengono aggredite come quel senso anche di rispetto delle regole e quel senso di impunità che troppo spesso è stato lasciato insomma quasi come fosse una cosa normale a quello invece si affianca quello che ha detto il giulio cavalli che mi pare si stia facendo penso al centro sportivo di caivano penso a quei 300 mila cubi di rifiuti che sono stati tolti in tempo record alle macchine che sono state requisite e per delega che ho però sotto segretaria ferro in molte città in molte città si lamenta una carenza di personale delle forze dell'ordine 25 30 mila tra carabinieri e poliziotti ora le misure di aumento dei dei reati sono misure che avvengono senza sollecitare e surriscaldare l'economia perché costano zero introdurre un reato costa nulla mettere sul piatto soldi per incrementare gli organici aggiornare il flotte di macchine costa sensibilmente di più da questo punto di vista mi dice cosa avete fatto cioè cosa rispondete abbiamo fatto quello che abbiamo fatto quello che per dieci anni non è stato fatto col blocco del turnover sbloccando i concorsi scalando le graduatorie immettendo ovviamente tutti coloro che dovevano coprire il turnover dei pensionamenti con i tempi ovviamente che purtroppo richiede la formazione per quanto riguarda un agente di polizia piuttosto che di un carabinieri anche riducendo quei tempi di formazione ma ovviamente per quelli che devono essere dei tempi giusti rispetto ad una ad un lavoro che richiede comunque una specificità di percorso quindi credo che sia stato fatto tanto il resto da oggi sono gli elenchi che sono stati pubblicati non soltanto per strade sicure dove abbiamo rafforzato nelle più grandi stazioni con i militari 800 militari in più però per un devo dire totale devo dire importante di 604 mila unità 6400 unità più 800 dicevo nelle stazioni abbiamo ovviamente inserito tutto ciò che può essere fatto ma che per dieci anni nessuno si era accorto essere in qualche modo fermo a un palo questo equivale nei pronti soccorsi dove le gli permettono di dare visto che così ci accorgiamo adesso c'è anche la parte ovviamente un suggerimento alla sottosegretaria e attenzione avete valutato quante unità di forze di polizia e carabinieri guardia di finanza impiegheremo per le notifiche dell'udienza e predibattimentali introdotte dalla cartabia ora non è una provocazione ma è così c'è certe volte noi abbiamo delle forze di polizia che utilizziamo non tanto ma come ufficiali giudiziari ora vi pare una cosa che ci possiamo permettere fatelo un monitoraggio magari suggerite al ministro se non è il caso perché io vedere polizia e carabinieri sprecati scusate a fare i postini mi fa rabbia intanto devo dire il capo della polizia pisani ha fatto una circolare in tutte le questure ma in tutte ovviamente il raccordo anche col ministero della giustizia rispetto ad uno screening delle unità presenti di come vengono impiegate di quello che si sta facendo ma è la legge che prevede che lo devono fare le forze di polizia facciamo finire la sottosegretaria ma è la legge che non superate con la circolare io sono dalla vostra parte che non si supera con la circolare so che lei è dalla nostra parte ma nello stesso tempo bisogna avere quello screening che ad oggi non c'era di cui lei giustamente ha sollecitato essere importante quindi si sta facendo se vogliamo andare poi nei numeri dei militari a milano sono 801 militari con 150 unità e in confronto a quelle impiegate in più rispetto al 2023 parliamo di città come bari dove abbiamo aumentato di 141 militari 126 unità a bologna insomma stiamo facendo devo dire abbiamo anche uno screening su quello che sono stati fermi controlli gli arresti io penso che da questo punto di vista questo governo aveva assunto degli impegni in campagna elettorale che sta mantenendo per noi la sicurezza è un motivo ovviamente importante sul quale investire quindi non lo riteniamo una spesa ma un investimento e continueremo ovviamente su questa scia allora io vorrei sentire vorremmo noi sentire tu